Musica Buonasera da Alessandra Buccia e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In apertura torniamo a parlare di Punta Perotti con la delibera approvata ieri dal Consiglio Comunale. Che cosa accade su quell'area? Lo scopriamo insieme in questo servizio. Su Punta Perotti non si può costruire, anzi sì, dopo l'ok del Consiglio Comunale alla delibera di adeguamento del piano regolatore generale al PUT. La mossa del sindaco emiliano è il sapore di una retromarcia, forse per evitare che in piena campagna elettorale si abbatta su palazzo di città una nuova tegola giudiziaria con contenziosi innescati dei proprietari di quei suoli. Siamo ben lontani da quell'aprile del 2006 quando il primo cittadino fresco di erezione festeggiava con l'abbattimento dell'ecomosso la vittoria dell'ambiente sul mattone. Con la delibera di ieri è stata scritta una nuova pagina sul parco della legalità. La ratifica degli emendamenti presentati dalla maggioranza aprono la costruzione di palazzi ma con precise prescrizioni nell'ambito dei programmi integrati di rigenerazione urbana. Il sindaco ha scelto dunque dopo anni di battaglia la strada del compromesso, da un lato a non cancellare il parco, dall'altro a contentare i costruttori. Emiliano non ci sta a sentir parlare di accordo o compromesso e per questo in mattinata ha convocato una conferenza stampa per sgombrare il campo dei dubbi. Ma al di là delle spiegazioni, comunque la si chiami, scappatoio o mossa strategica, due cose sono certe. La riqualificazione della costa è tutelata ma assieme ad essa anche l'interesse dei costruttori. Di fatto si potranno costruire anche palazzi di 10 piani visto che il limite di altezza consentito è di 35 metri. Insomma l'idea è quella di preservare il diritto dei proprietari dei suoli a ricostruire i palazzi abbattuti e nel contempo a difendere quel parco che in questi sette anni è stato per Emiliano il simbolo del suo mandato. E poi non chiamiamolo compromesso. E voltiamo pagina all'interno del suo comitato elettorale in via Calefati. La federazione di associazioni e movimenti, patto per Bari, hanno presentato il programma e spiegato le ragioni della loro adesione alla coalizione di liste che sostengono la candidatura a sindaco di Bari di Domenico Di Paola presente all'incontro. Nuove segnalazioni arrivano dai residenti della zona del Policlinico sulle condizioni di Piazza Giulio Cesare. Sentiamo quali i disagi nel servizio di Silvia Di Pinto. Crepe nell'asfalto, mattonelle traballanti, marciapiedi dissestati, pezzi di marmo divelti. Non è la prima volta che i residenti del quartiere Picone ci segnalano le condizioni in cui versa Piazza Giulio Cesare. Nel 2006 l'inaugurazione del parcheggio sotterraneo della nuova piazza, frequentata soprattutto da pazienti e dipendenti del Policlinico. Negli anni numerose sono state le denunce dei cittadini sulla qualità dei lavori che, subito è proprio il caso di dirlo, hanno mostrato le prime falle. Solo un anno fa le nostre telecamere avevano ripreso l'asfalto crepato, il piano della strada collassato e intere mattonelle di velte. Qua e là oggi si notano i resti di interventi di riparazione, ma per ogni metro quadro rattoppato ce n'è un altro che dà segni di cedimento. I residenti tornano a sollecitare manutenzione ordinaria perché non straordinaria. Un intero condominio ha messo nero su bianco i disagi. I dubbi si concentrano anche sul corretto funzionamento della fogna, scrivono i residenti, visto che soprattutto con il caldo estivo i cattivi odori sono insopportabili. Alle problematiche e condizioni della piazza oggi si aggiunge una nuova segnalazione. Al centro delle polemiche finiscono le palme, espiantate da piazza Giulio Cesare e da piazza Cesare Battisti dieci anni fa, quando sono stati costruiti due parcheggi sotterranei. Alcune palme storiche sono state ripiantate all'ingresso monumentale del Policlinico, altre sono state messe a dimora in zona Santa Fara in attesa di essere ricollocate. Il loro però non è stato un destino felice. Oggi agli occhi dei passanti si presentano secche e senza vita. In tema di lavori in corso, domani a Palese partirà il cantiere per la riqualificazione di piazza Capitaneo. Lo comunica Palazzo di Città. I lavori che avranno la durata di 150 giorni riguarderanno la cura e la redistribuzione del verde, il rifacimento della pavimentazione, la creazione di un pergolato per la sosta e la realizzazione di un'area attrezzata per i bambini. La spesa prevista è di 111 mila euro. E siamo alla cronaca custodiva in valigia. 190 piantine di cat pari a 20 chili. Il cat è una pianta le cui foglie contengono una sostanza molto simile alle anfetamine, quindi considerata stupefacente. Per questo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza un 37enne portoghese, era appena sbarcato da un aereo proveniente da Londra. Il Corriere della Droga aveva anche tentato di sfuggire ai controlli lasciando il suo bagaglio sul nastro trasportatore. E adesso una notizia per tutti i giovani musicisti varesi. Il liceo scientifico Scacchi in collaborazione con l'Associazione Culturale 080 organizza la quarta edizione del Rec & Play Contest, concorso per band musicali emergenti composte prevalentemente da studenti delle scuole secondarie di secondo grado. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro sabato 26 aprile a recandplaycontest.gmail.com Parliamo di trasporto pubblico locale, fino a stasera incrocia le braccia il personale di servizio per chiedere l'adeguamento contrattuale. Ospite questa mattina di B&G è l'assessore regionale al ramo Gianni Giannini che su sua recitazione dei telespettatori ha parlato di Amtab e dei lavori della metro Bari-Bidritto. Sentiamo cosa ci ha detto. Noi abbiamo bandito il parco rotabile, la qualità del parco rotabile. Abbiamo bandito un concorso e abbiamo assegnato delle risorse per l'acquisto di nuovi autobus ecologici. Entro giugno il Ministero dei Trasporti dovrà distribuire tra le regioni 300 milioni di euro che sono destinati proprio al rinnovo del parco rotabile. Però queste risorse risultano assolutamente insufficienti per far fronte ad una domanda che è sempre più crescente e ad una offerta che rimane invece al palo. Sulla Bari-Bidritto? Sulla Bari-Bidritto i lavori sono in corso, li abbiamo sbloccati l'anno scorso quando abbiamo inaugurato il cantiere e adesso sono in corso e credo che saranno ultimati entro la scadenza prevista per l'utilizzo dei fondi europei cioè il 31 dicembre 2015. Bari in festa per San Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù che la Chiesa Cattolica ricorda oggi il 19 marzo dopo la messa nella Chiesa di Piazza Chiulia alle 19 la Statua del Santo è stata portata in processione per i vicoli del Borgo Antico accompagnata da una banda musicale. Numerose le soste nelle diverse piazze del centro murattiano grande festa anche nella parrocchia di San Giuseppe al quartiere Madonnella. La tradizione vuole anche che in onore del Santo si accendano falò un rito antico che segna il passaggio dall'inverno alla primavera. Parliamo adesso del fallimento del Bari Calcio potrebbe esserci un'accelerata sulla stima del Bari lavoriamo lacrimente per consegnare al giudice delegato Anna De Simone la perizia richiesta dal Tribunale di Bari il termine indicato nella nomina è venerdì 28 marzo ma se possibile la completeremo anche prima la stima contribuirà a stabilire il prezzo d'asta Luca Veneziani, commercialista e ispettore Covisoc indagato insieme a Domenico Tria nella procedura fallimentare di redigere la perizia valutativa del club indica questa tempistica per uno degli atti preliminari all'asta che potrà consentire al Bari affiliato con un'altra società sportiva di non perdere la categoria all'asta andranno oltre al titolo sportivo anche i cartellini dei calciatori con contratti pluriennali la cui titolarità afferiva alla S Bari siamo alla pagina degli spettacoli un bagno di folla accolto Alessandra Moroso arrivata alla Feltinelli del centro commerciale Mongolfiera di Santa Caterina per presentare il suo ultimo album Amore Puro così come Puro è stato l'affetto delle tante piccole fan che tra sorrisi e tante lacrime di emozione si sono avvicinate a lei per una foto insieme per un autografo sul poster o sul cd in sottofondo i brani dell'ultimo lavoro dell'Amoroso che ovviamente cantate dai ragazzi ma soprattutto dalle ragazze in coda dalle nove di questa mattina giorni di scuola in meno ma la certezza di poter abbracciare la propria benamina che con sorrisi ha ricambiato l'affetto ricevuto Alessandra Moroso tornerà presto a Bari al Palaflorio il 14 aprile per il suo Amore Puro Tour La cultura ebraica scritta tra Basilicata e Puglia è il titolo della mostra interregionale dedicata a Cesare Colafemmina scrittore storico e biblista italiano la rassegna inaugurata oggi pomeriggio al Castello Svevo di Bari è promossa da Cerdem insieme con la Regione Puglia l'Università degli Studi di Bari e Alma Mater di Bologna resterà aperta al pubblico fino al primo aprile prossimo Siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore cielo sereno temperatura e lieve rialzo con valori compresi tra 11 e 20 gradi venti da nord ovest con intensità di 17 km orari mari poco mossi in chiusura come sempre vi ricordo i nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net il nostro indirizzo di posta infochioccio del segno di zoro.it vi invitiamo anche a visitare e a consultare le nostre pagine Facebook subito dopo vi lasciamo con lo speciale una vita da social a cura di Cristina Ferrigni un reportaggio realizzato alla vigilia della campagna itinerante educativa sui temi di social network cyberbullismo ad escamento sicurezza e violazione della privacy online organizzata dalla Polizia di Stato per questa edizione è tutto grazie per averci seguito e appuntamento più tardi grazie per averci seguito